Oggi non diamo una parola sola ma parliamo delle parole della fede perché inizia con questo nuovo anno liturgico un nuovo cammino da parte nostra in particolare perché quest'anno è l'anno della fede. Ecco, sì vogliamo evidentemente metterci all'ascolto del Santo Padre il quale per celebrare il cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano II ha pensato che la cosa migliore sia far meditare tutta la Chiesa sull'annuncio della fede. Allora abbiamo pensato che da ora in avanti useremo questo strumento, il Catechismo della Chiesa Cattolica, il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica per aiutarci a fare un cammino sulle parole della fede. Cioè vi raccontiamo 1500 pagine in due minuti, no? Adesso non più. Non tutto. Però il compendio del Catechismo è fatto a domande e risposte. Come il vecchio Catechismo di San Pio X. Come il vecchio Catechismo di San Pio X, certo. E quindi essendo fatte le domande e risposte ci viene bene per eviscerare, per sottolineare determinate parole della fede che sono quelle che poi percorreranno tutto il nostro cammino dell'anno della fede e ancora di più verosimilmente. Quindi siamo sempre su Babele, evidentemente siamo sempre sui contraforti di questa grande torre costruita per arrivare all'altezza di Dio e ancora una volta le parole che sono state confuse nella mente degli uomini sono le parole che invece hanno bisogno di essere recuperate e in particolare questa volta non sono parole qualsiasi o parole della scrittura ma parole della nostra fede che è qualcosa di più della scrittura poi lo scopriremo man mano che camminiamo. Ecco Don Giallo ma il Catechismo della Chiesa Cattolica a parte che è un librone enorme, quello grosso e quello piccolo è un po' più piccolo ma cosa serve? Allora il Catechismo della Chiesa Cattolica è insieme ai documenti del Concilio e al Codice di diritto canonico come insegnava Giovanni Paolo II è il frutto dell'esperienza conciliare quindi la nuova esposizione sistematica dei contenuti della fede fatta per l'uomo moderno in maniera tale che l'uomo possa riconoscere qual è l'insegnamento della Chiesa quindi un punto fermo e certo di dottrina che non affronta le questioni problematiche ma vuole insegnare il deposito della fede. Però come tu dicevi il Catechismo della Chiesa Cattolica è un librone bilingue, latino e altre lingue che è sì importante e fondamentale è bene che tutti ce l'abbiano e lo leggano però è un po' mattone. Allora la Chiesa nella sua maternità con il cardinale Ratzinger I e benedetto XVI dopo ha pensato di fare un compendio perché già comunque il Catechismo della Chiesa Cattolica alla fine dei singoli articoli ha delle frasi o dei brevi testi di compendio delle problematiche svolte qui è stato introdotto, sono state riassunte e riprese queste frasi di compendio e introdotte da delle domande perché si possa eventualmente anche pensare a una memorizzazione. Quindi uno si legge la domanda, chi è Dio? E poi si ritrova come con San Piovedeci Dio è l'essere perfettissimo, il creatore. Quindi dalla prossima volta cominceremo a camminare in questo terreno che è appunto una sintesi della sintesi del Catechismo della Chiesa Cattolica.